Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la realizzazione nel biellese di tre case di comunità, di un ospedale di comunità e di due centrali operative territoriali, per un investimento di 7,3 milioni di euro. Le sedi delle case di comunità, sono strutture in cui opera equip multiprofessionale di medici, di medicina generale, infermieri di comunità, altri professionisti della salute, saranno a Biella, in via Fecio di Cossato, a Cossato in via Maffei e a Valdilana nella frazione Ponzone. L'ospedale di comunità è invece una struttura a ricovero breve, destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e sarà ubicato sempre in via Fecio di Cossato a Biella. Le sedi delle centrali operative territoriali sono invece strumenti organizzativi che svolgono una funzione di coordinamento della presa in carico del paziente e raccordo tra i servizi e i soggetti coinvolti nel processo di assistenza e le due centrali operative territoriali saranno sempre a Biella in via Fecio di Cossato e a Cossato in via Maffei.